Take it easy, take it slow We can do it just like before So take it easy, take it easy Ragazzi bentornati in questo unissimo video Io sono Cecchinato e oggi ragazzi siamo in unissimo video su Fortnite News Con il primissimo Fortnite News per questa nuovissima stagione 7 Innanzitutto voglio sapere le vostre opinioni su questa prima giornata della nuova stagione Vi piace il pass? Insomma cosa ne pensate di questa nuova stagione? Ci sono pure i UFO, insomma è anche cambiato un po' il modo di giocare Nuova aggiunta in game per quanto riguarda le armi e altri oggetti che potete anche craftare Quindi insomma veramente un bel aggiornamento Pass battaglia che vi dico già che non mi fa comunque molto impazzire se volete sapere la mia Se non fosse per diciamo Superman che adesso andiamo anche a vedere come si potrà ottenere E anche questa skin qua alla sinistra diciamo che il resto non è niente di che insomma Ma fatemelo comunque sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate Vi ricordo mi raccomando un bel like, cerchiamo di arrivare ai 200 mi piace Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto mi raccomando con la campanellina E detto questo iniziamo subito con tutte le news Faremo insomma una sorta di recap di tutti i leak usciti nelle ultime ore Allora incominciamo con la primissima news ragazzi che è esattamente questa qui che vedete alla mia destra Infatti non so se l'avete notato ma è stato trovato una sorta di invito Che magari vi metto anche l'immagine ingrandita qui alla sinistra Con questa faccia dell'alieno versione anche estiva Con scritto sopra festa di benvenuto a Cala Credente Che se non sbaglio è la nuova sabbia sudata esattamente questa città Infatti ragazzi sembrerebbe che ci possa essere un piccolino evento Non so ancora su cosa si basa, non sappiamo a che ora, non sappiamo ancora la data Però insomma dovrebbe esserci una piccola festa di benvenuto in occasione dell'arrivo degli alieni Proprio in quella città Appena avrò più news comunque vi farò sapere la data La prossima news poi ragazzi riguarda i lama Infatti sono stati anche loro modificati Infatti ora ci sono i lama alieni tra virgolette Nel senso che i lama adesso ragazzi possono muoversi Quindi non staranno fermi come ormai tutti sappiamo da ormai un sacco di stagioni Ma praticamente appena ci avviciniamo a loro Loro inizieranno insomma a scappare Nel mentre che scappano vi daranno anche del loot Quella è diciamo la cosa carina che insomma Poi ovviamente se gli sparate può perdere vita Quindi si può anche lì distruggere subito Però comunque se lo rincorrete piano piano lascerà tutti gli oggetti Inoltre possono muoversi anche in acqua Quindi insomma diciamo un grande aggiornamento anche per quanto riguarda i lama Inoltre non so se l'avete notato Ma se noi apriamo la mappa Vedete che abbiamo delle città con il nome viola Sicuramente in molti si staranno chiedendo Cosa significa questa scritta in viola Che poi tra l'altro è pure animata Praticamente se in quelle città vedete questi colori qua E perché lì saranno presenti dei UFO Adesso non so se sono fisse le città Nel senso che magari possano cambiare Ma mi sembra che siano fisse Infatti mi sembra di vedere che In ogni partita che faccio Siano sempre quelle tre città lì Potrei sbagliarmi magari Però credo che siano città fisse E lì comunque troverete circa 2-3 UFO In quelle diciamo tre città Che ovviamente dovrete prima distruggere Poi una volta che avrete distrutto Potrete insomma iniziare anche a guidare gli UFO UFO che sono veramente molto forti Fanno un 30 di danno Appena gli lanciate quella sorta di cannonata Versione fantascientifica insomma E tra l'altro gli spinge pure Come se fosse tra virgolette una Una giamperina Quindi veramente molto molto carini Forse un po' troppo OP comunque E poi ragazzi abbiamo avuto Oltre all'aggiunta di altri bowl Che adesso andremo a vedere Abbiamo visto l'aggiunta anche di questa chest Cosmica Infatti è una nuovissima chest Probabilmente potentissima Non so dove si trovi Ma è una delle chest probabilmente più rare Che potrete insomma trovare a giro Per l'isola Però insomma è veramente una chest Molto molto forte Perché sembrerebbe che Per insomma aprire questo Questo bowl Servino esattamente 4 giocatori Quindi un'intera squadra Non so confermarvelo proprio al 100% Se serve una squadra completa Però così è scritto insomma Nella descrizione che c'è scritto Per l'appunto alla mia destra Quindi molto probabilmente Serve un'intera squadra Per aprire Per aprire scusate Questa chest Chest che dovrebbe a sto punto Contenere insomma tantissima roba Inoltre ragazzi Buone novità Anche per quanto riguarda Il bundle di salva al mondo Infatti come ogni stagione Che si rispetti Ha ovviamente uno starter pack Ovviamente di salva al mondo E il suo costo ovviamente È sempre quello Quindi se non erro Sui 15-12 euro Non mi ricordo quanto costi Però include Comunque i soliti 1000 V-Bucks Include la skin Che vedete proprio qui Bruttissima Non la voglio neanche vedere E poi abbiamo il backpack Con il piccone Che forse il piccone È l'unica cosa Che possiamo ritenere Insomma decente Di questo bundle E poi se non sbaglio C'è anche i biglietti Dei lama Insomma roba utile Per salva al mondo E ovviamente abbiamo anche Il nuovo starter pack Della nuova stagione Che avevamo già Lickato Qualche settimana fa L'avevamo già visto Ovviamente 600 V-Bucks Inclusi Uno dei migliori starter pack Questo devo dirlo Veramente molto molto carino Quindi Probabilmente Io lo prenderò Fatemi sapere Voi invece qua sotto Nei commenti Cosa ne pensate Se vi piace Molto molto carina Come skin Il piccone Sì normale Insomma niente di che E poi abbiamo ovviamente Il backpack Tutto incluso A 3,99 euro Ed ecco le altre chest Invece nuove Prima ne abbiamo visto Un'altra Che si può aprire Con l'intero team Invece questa è una chest Che potrete trovare Proprio mi sembra In questa città Se non sbaglio Qua dentro C'è una di quelle chest O comunque sparse Nelle zone Nuove Tra virgolette Quelle dell'ordine Così si chiamano E potrete trovare Insomma queste chest Vi danno Mi sembra assicurato Un'arma epica O leggendare Intanto guardate qua C'è la faccia dell'alieno Nell'isola Ah ecco Questa tra l'altro Dovrebbe essere La spiaggia Che vi dicevo prima Che ci dovrebbe essere Un piccolo evento Di benvenuto E poi comunque Dicevamo le chest Sono quelle Sono quelle lì Praticamente con Il colore verde Nero e blu Che si trovano Sparse per la mappa Ripeto chest Ovviamente che danno Assicurato Se non erro Un oggetto Leggendario Barra epico E poi sotto Comunque vediamo Il nuovo deltaplano Della nuova stagione Veramente molto figo Ovviamente Era abbastanza scontato Che fosse una roba Temalieno Quindi una specie Di UFO Molto molto carino Che potrete ottenere Ovviamente Facendo una semplice win E adesso ragazzi Andiamo a vedere Un po' il pass battaglia Ve lo spiego Velocemente Poi parliamo ovviamente Di come sbloccare Batman E tutte le ricompense Che ci sono Nascoste In questo pass battaglia Iniziamo col dire Che come ben sapete Le stelline Sono necessarie Per comprare Insomma Gli oggetti Al pass battaglia Infatti Molto molto carino L'estetica Che hanno fatto Per questo nuovo pass battaglia Finalmente Un po' di Freschezza Un po' di aggiornamenti Cose che Insomma Non facevano Da molti anni E come possiamo vedere Con le stelline Che si ottengono Livellando Col pass battaglia Potrete prendere Insomma Tutti questi oggetti Qui Molto molto carino Come idea Quindi Semplicemente Livellando Potrete Puoi sbloccare Le ricompense Che voi preferite In base Insomma Le stelline Anche che ovviamente Voi possedete Poi Abbiamo La skin Di Chimera Che ha Oltre 2000 varianti Sono quelle Si ottengono Insomma Questi manufatti Come vi ho detto prima Quindi Si va sull'isola di Fortnite Spawnano nelle città Insomma Dovrete Avere un po' di fortuna A trovarli Comunque Abbastanza easy Da trovare Io ne ho già trovati Un bel po' E Come possiamo vedere Basterà Semplicemente Cliccare Quello che si vuole Insomma Ve lo prendete E Veramente Molto molto carino Come skin Tra l'altro Questa troppo figa Temalieno Qua abbiamo Una specie di Rinoceronte Molto molto carino Insomma Poi potete anche Cambiare gli occhi Molto molto carino Come skin Poi abbiamo Le ricompense bonus Ragazzi Queste sono Praticamente Tutte Le ricompense Che ottenevamo Tra virgolette Con Incarichi epici Quindi Della scorsa stagione Completando Diversi incarichi epici Noi ottenevamo Dei stili Aggiuntivi Insomma Per le varie stagioni Qua abbiamo Come possiamo vedere La stessa cosa Ma sempre con le stelline Quindi le stelline Serviranno anche In questo caso Per le ricompense bonus Che come possiamo vedere Hanno diverse varianti Come la variante Anche di Slon Che è Quella dell'ordine E poi come possiamo vedere Anche delle altre skin Molto molto carina Questa skin In collaborazione Di Rick Tossico Poi insomma Abbiamo tantissime altre ricompense Ed eccola qui La skin segreta Che non è Superman Infatti ragazzi Come possiamo vedere In realtà Molto probabilmente Questa schermata È della skin segreta Che attualmente Non sappiamo nulla Però vi dico Un piccolo spoiler Che secondo me Potrebbe essere Molto interessante Fondazione Potrebbe essere L'unica secondo me Che si può collegare In queste ricompense Quindi essere la skin Segreta Per il mio Assenso Spero che non mettono Un'altra collaborazione E che mettano Quindi Fondazione Fatemi sapere Se anche voi La vorreste Comunque È abbastanza sicuro Che questa sezione Comunque sia dedicata Alla skin Segreta Anche perché Alte sezioni Poi non l'abbiamo Quindi o ci rimane La skin di Superman Come skin segreta Ma tanto segreta Non lo è Perché è già stata svelata Però Questa diciamo Potrebbe essere L'unica sezione Delle ricompense Diciamo Che potrebbero essere Della skin segreta In arrivo tra 16 giorni Prestissimo Per una schede segreta Però Dovrebbero arrivare Quindi con la patch 16 No 17 Punto 20 Sì No 17 Punto 10 Quindi la prima patch Insomma di questa stagione E poi ragazzi Infine ovviamente Eccolo qua Superman L'avamo già liccato In un video news fa L'avamo detto Che molto probabilmente Era nel pass battaglia Si capiva dagli occhiali Che c'erano nel teaser Skin Veramente bellissima Per il mio Soprattutto per gli amanti Insomma Di supereroi Che attualmente Su Fortnite Ormai Li hanno quasi messi tutti Quindi ormai Abbiamo quasi tutti I supereroi In Fortnite E come possiamo vedere Presenta due varianti Una variante A parer mio Bellissima Che hanno fatto E' proprio quella Di ombre Infatti come possiamo vedere Con gli occhi Tutti bianchi Insomma Questo mantello nero Tutto versione nero Veramente bellissima Sta variante Piccone Super bello Con la mazza Della solitudine Fa parte ovviamente Del set DC Poi abbiamo Lassù Il suo deltaplano Che praticamente Lui che vola Esattamente Come vedete In questa schermata Abbiamo La sua schermata Di caricamento E poi abbiamo Il suo banner Che potremmo utilizzare Come standard Ovviamente All'interno di Fortnite Poi abbiamo Il suo backpack Che credo Che quasi nessuno Sarà Abbiamo la sua Emote Che si fa con le mani Abbiamo La skin normale Quindi lui Versione standard Abbiamo il suo spray Raffigurante Il simbolo di Superman E poi ovviamente Abbiamo L'emote Integrata Che si trasforma In Superman Versione standard Anche questo Molto molto bello Si presenta in questa maniera Ovviamente Con il suo Bellissimo mantello Che vediamo Tra l'altro Proprio adesso Eccolo qua Volevo vederlo anche Ecco in Color Versione Oscuro Eccolo qua Molto molto carino Fatemi sapere Quale dei due preferite Ma adesso passiamo Al come si ottiene Ovviamente La skin Di Superman Che è molto facile In realtà Da capire Qua non lo dice Ma ovviamente Innanzitutto Si riscatterà Tra 65 giorni Quindi non è ancora disponibile Lo potremmo vedere Il suo Diciamo Sblocco Quindi lo potremmo Riscattare Tra esattamente 65 giorni E Praticamente Come si otterrà Ovviamente Tramite delle sfide Che ancora sono state Criptate Quindi non le possiamo Ancora vedere Perché non sono ancora All'interno dei file di gioco Verranno aggiunte Sicuramente Tra qualche patch Quindi credo Verso la 17.30 Barra 20 Sicuramente Verranno aggiunte Completando ragazzi Tutte le sfide Ovviamente Potrete insomma Ottenere L'intero set Quindi molto probabilmente Superman Lo sbloccheremo Tramite delle sfide Credo che sia così Perché di solito Fanno di norma Sempre in questa maniera Qui Le sfide ovviamente Sono ancora decriptate Quindi molto probabilmente Verranno decriptate Nella patch 17.20 Barra 30 E un altro modo Che probabilmente Potrebbero utilizzare Sono le stelline Cosa difficile Non credo Per quanto riguarda Le stelline Perché Non ha molto senso Ecco Sono già Per il pass battaglia Che le mettono Anche per lui Potrebbe Però non credo Credo che Vengano messe delle sfide Che attualmente Ovviamente Non abbiamo ancora E un'altra cosa Che ovviamente Non faranno mai nella vita Ma che mi sarebbe Piaciuto vedere È tipo Averla fatta Come la skin Che si sblocca all'inizio Che utilizza esattamente Questi cosi qua Che non mi ricordo Come si chiamano Questi item nuovi Quindi potrebbero Fare una figata Ma sicuramente Non la faranno Che praticamente Sparsi per la mappa Mettono delle cose Di Batman Non so Di Superman Scusate Dedicata a Superman Quindi le mettono Sparse nella mappa E voi Casualmente Potrete Trovarli Prenderli Una volta che ne prendete Insomma La stessa cosa Della skin di prima Potrete andare qui Comprarvi la skin Insomma E tutto quanto Ma non credo Che sarà così Quindi Molto probabilmente O tramite sfide O tramite stelline Questa skin Potrà essere sbloccata Stelline che ripeto Sbloccate Non appena Ovviamente avanzate Di livello Nel pass battaglia Quindi ragazzi Questi saranno sicuramente Due metodi Che potremmo Ottenere Superman Quindi in queste due maniere Sicuramente Lo potremmo Ottenere Detto questo ragazzi Vi dico anche La data ufficiale Che dovrebbe essere Tra l'altro Il 13 agosto Quindi Secondo questo timer Che ci ha messo qui Fortnite Dovrebbe essere Il 13 agosto La data in cui Potremmo riscattare Superman Quindi quasi a fine stagione Che stagione Che termina sul 12 settembre Quindi sono quasi Quattro mesi Se non erro Di season Molto molto lunga Speriamo che Mettono dei aggiornamenti Belli Perché comunque Una season Bastanza lunga Detto questo Per oggi è tutto Spiegazione Il pass battaglia Una carrellata I leak Spero che vi siano stati utili Noi ci vediamo stasera In live su Twitch O domani Sempre Con un nuovo video Bella Ciao 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 Ciao